Dopo gli ottimi riscontri ottenuti da Animal Crossing New Leaf, Nintendo porta in Europa un altro suo cavallo di battaglia della sfera social, vale a dire Tomodachi Life per Nintendo 3DS. Piccolo fenomeno in Giappone, Tomodachi Life è un simulatore di vita che miscela in maniera ancora più surreale quanto visto in Animal Crossing e anche in The Sims, posizionandosi nel mezzo. Un gioco, insomma, se così possiamo dire, il cui scopo è quello di passare del tempo assieme alle altre persone relazionandosi con loro, del resto in giapponese Tomodachi significa proprio amici, amicizia, quindi un gioco fuori dal coro a cui è impossibile resistere. Tomodachi Life uscirà nel mese di giugno in esclusiva per Nintendo 3DS. Il gioco è un fenomenale simulatore di vita, grazie al quale è possibile mettere in relazione nelle maniere più disparate i Mii creati dal giocatore stesso oppure incontrati via Street Pass. Il numero di situazioni paradossali e splendidamente surreali che si andranno a creare grazie a dinamiche di gioco esilaranti, ma costruite con una poetica tutta giapponese, rendono Tomodachi Life un esperimento quasi irresistibile. Il gioco si apre con la definizione di un proprio Mii, o con il caricamento di uno già presente nella memoria della console. Sarà poi essenziale scegliere il timbro della voce, così come tutta una serie di parametri i cui bilanciamenti mai uguali influiranno di volta in volta sulle relazioni con gli altri personaggi. All'interno della propria isola, il giocatore andrà incontro a situazioni di volta in volta esilaranti. La vita in Tomodachi Life scorre frenetica soprattutto per il vasto numero di attrazioni che compongono l'ambiente di gioco, quali locali, discoteche, lunapark, foreste e negozi in cui fare shopping. Un micromondo che offre potenzialmente un numero di situazioni relazionali superiore persino a quelle di un peso massimo come Animal Crossing. Tomodachi Life è dunque pronto a conquistare i cuori social degli utenti europei di Nintendo 3DS. Dai, come si fa a resistere alla possibilità di scrivere canzoni per il proprio Mii e farlo cantare in pubblico? O magari organizzare un bel roleplay game retro all'interno di qualche foresta? Insomma, le possibilità di divertimento e interazione all'interno di Tomodachi Life appaiono davvero non finire mai. Siamo sicuri che questo gioco vi sorprenderà a partire dal prossimo mese di giugno. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.